Ciao a tutti ragazzi, io sono Drexel e bentornati su un nuovo gioco ragazzi. Vediamo se vi ricordate questo... qual è? Ops, ho schifato per sbagliare. Vi ricordate questa canzone? Mamma mia ragazzi. Il vecchissimo gioco Rage of the Gladiator. Come potete non scordare, come potete non... Scusate ragazzi, sono emozionatissimo. L'ho trovato per cellulare, mamma mia. Oddio, 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 che bello. Che cos'è questo? Ovviamente la registrazione mi ha già avviata. Vabbè lasciamo stare tutte cose. Devo continuarlo, devo ragazzi. Ragazzi, se volete che continuo questo gioco lasciate 45 mi piace. Lo so che sono tanti, però voglio che continuiate. Che... voglio che mi facciate continuare. Mamma mia che bello. Sì, lo faccio subito. Ecco. Sto vincendo su tutto. Ai, ai. Avanti... Uhu. Aha. Mamma mia lo... Boom. Sì, boom. Mamma mia. Quanto è scorso questo. Uhu. Mamma mia, è scassato tutto. Perfetto. Ha perso. No. E vai. Vi ricordate questa mossa ragazzi? Quanto tempo è passato? Mamma mia, è già un anno. Mi più velocemente cada? Mamma mia. Hi. Ah. Perfetto. Uh. Mamma mia, non ci ho fatto caso. No. Ahahah. Dai. Fatti sotto. Uh. Ahahah. Mamma mia, il pavimento è giallo. Ah, non è proprio buggato. Proprio... Mamma mia, come si vede. Mamma mia, che cosa sta succedendo? Ma è tutto viola. Tutto viola. Boom. Non mi è fatto niente. Tutto viola, ragazzi. Tutto viola. Ma sì. Ma lasciamo stare quello che... Uh. Ai. Non mi ricordo... Ai. Non mi ricordavo. Boom. Ahahah. Dai. Mamma mia, quanto è lento questo. Mamma mia, lo devo scassare tutto. Dai. Bastardo. Dai. Mamma mia, quanto dura. Nella Wii durava molto di meno. Oh, ok. Ora mi preparo... Come al solito l'attacco. Boom. Ah, sì, dai. Tutto viola. Ah, in violet da... Budi da, Buda. Ah. Continue. Che cosa devo cliccare? No. Boom. Non so che cosa ho fatto. Comunque. Allora. Continuo. Sì, ma sì, dai, sì. Facciamo quello che vuoi. Ah, perfetto. Eh, ma sì, dai. Continuiamo, continuiamo. Non vedo volore. Mamma mia. Mi mancava questo gioco. E siccome non è più la demo, possiamo continuare. Possiamo continuare. Ragazzi, fatemi continuare per favore. Lasciate 45 mi piace per questo video. Il prossimo. Mamma mia, sono troppo emozionato. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ma sono fatti meglio? Eh, sul cellulare i nemici. Ma molto meglio, però. Aia, bastardo. Mamma, lo sto screpentando. Sboom. Mi è mancato. Già l'ho scassato tutto. Uh. A chi credi. Con chi credi. Di stare parlando. Boom. Perfetto. Sboom. Mamma mia. Mi è discrependo la faccia. Ui. Ma sì, dai. Facciamo il rumore. Più che. Uh. Ah, ah, ah. Dai, attacca. Ehi. Ma l'ho screpentato proprio. Gli ho fatto malissimo. Aspetta, oh. Non mi ricordo. Ui. Come lo ricordo ancora sta mossa. Come se fosse ieri. Sboom. Vieni qua. Che ti scasso tutto. Ah, non funziona. Perfetto. Ora sì. No, no, no. Bastardo. Bastardo. Dai. Non funziona. Ah, ok. Ora sì. Non è vero. Eh, vabbè. Uno. Due. Tre. Uh. Mamma mia. Perliscio. Perfetto. Perliscio. Perfetto. Incredibile, ragazzi. Oh, oh, oh. Mi ho sbagliato tutto. Boom. Boom. Oh, oh, oh. Di nuovo. Mi sta stralisciando oggi. Oh, di nuovo. Non mi ha preso, non mi ha preso. Mi ha strapreso. Però, ok. Ok. L'ho scassato anche questo. Ah, che bel ricordi, ragazzi. Che da questo gioco. Alcune cose sono fatte veramente, ma... Comunque, comunque, comunque. Non diamo... Non guardiamo queste altre cose, perché... Sennò... Oh, mio. L'ho strapotenziato, proprio. Ok. Ah, ok. Posso fare solo questo. Perfetto. Ok, ragazzi. Io do qua il video. Voi... Ah, se vi è piaciuto il video. Ragazzi, guardate come hanno fatto benissimo Medusa. Allucinante. Lui è sempre schizofrenico. Attacchi sfastici che gli vengono sempre. Comunque, ragazzi. Tutto molto bello. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate voi i 45 mi piace se vi è piaciuto questo video. Così ne farò un altro. Io sono contentissimo e fiero di farne altri, perché abbiamo... Mi quanti... Quanti, però. Oddio. Non me l'aspettavo, questo. Comunque, ragazzi. Lasciate mi piace. 45. Arriviamo a 45 mi piace se vi è piaciuto il video, così io posso continuare questo... questo gameplay. E niente, ragazzi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Noi ci rivediamo al prossimo video.